A presto Non lo so Io spero proprio di sì E guarda caso abbiamo trovato anche un altro tutorial Vediamo cosa ci dice di Ovi oggi Le armi esplosive causano danni d'aria Grazie Chi l'avrebbe mai detto Però siamo già a un quinto della missione quindi Io però vorrei mangiare qualcuno Però queste strade Buongiorno Sono deserte Però nessuno ci sta cagando Siamo dei civili Che stanno entrando in un'area militare E nessuno si fa domande Ottimo Questo cos'è? Ah è il fucile quello pesante Me ne faccio relativamente poco di quest'arma Perché ha tanti colpi ma fa poco danno Quindi ecco qua Iniziamo a mangiare un po' di più Ci stiamo proprio liberando tutta la zona Ecco fatto Ma perché no prendiamo anche Il lanciavissili Che sicuramente è più utile Oh ma che fino hanno fatto Quei due da dove sono apparsi Sono riapparsi adesso Sono respawnati Che fino hanno fatto gli altri colleghi Ah non lo so Saranno andati a fare pausa Caffè Oh sti sfaticati nel cazzo Maledetti statali Però eccoci arrivati alla missione Sperando che Alex non sia scemo Da cambiare Aspetto Questa volta no Bravo Alex Così si fa Vabbè giustamente Sarebbe stata però una cosa intelligente Se avessero messo la possibilità Di cambiare più volte il tuo aspetto Nel senso Non ho più lanciamissili Vero? Dicevo Una volta sei Questo soldato Una volta sei L'altro soldato Sai cosa io? Lascerei Tutti i soldati in vita Il più possibile Il più possibile Dicevo Ecco Questo Non doveva succedere Ed è arrivata Una macerie in testa Al Beccati questo Merda Ecco fatto Volete fare a botte? Eh bastardi Non ci sperate troppo Eh Eh che cazzo Va bene tutto Così è un po' esagerato Madonna mia Ok calmi tutti Ho bisogno Ahia che male Eh ho capito che la pompa è sotto attacco Deficienti Fate qualcosa se la pompa è sotto attacco No? Io sto combattendo a mani nude Voi avete Almeno i fucili Avete lanciamissili Io Sti stronzi li sto combattendo a mani nude Eh guarda Madonna mia Ma qualcuno vuole aiutarmi O devo fare veramente tutto io a mano? Ecco qua Bene Siamo fottuti Aspetta Eh lo so Lo so Madonna mia Ma Che è successo? In aria L'abbiamo preso Non riesco a fare nulla Eh Però perlomeno Li abbiamo Distratti Ecco fatto Oh calmo Lascia stare quel soldato Bastardo Perfetto Un filo di energia L'abbiamo recuperata Perlomeno Aia Molla Quel cacchio di macchinario Ti giuro che Vi prendo tutti a calci In volo Da qua Fina che non finisce la missione Te lo giuro Quanto è vero Iddio Io vi sconfiggerò Tutti a calci Volanti Anche il boss finale Io te lo giuro Un calcio volante A fine partita Quello è un fucile Perfetto Era un lanciagranate E lì per terra C'è anche un lanciamissili Quindi Benissimo Non è ancora finita Fai riuscire Elisabeth Green La fate facile voi Eh Ok Ok E il primo E' andato Aspetta 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 Vado a prendere Ecco qua Ecco qua Ma Vi ne va E' da lì Ecco fatto Eh La pompa è sotto attacco Anche tua madre E' sotto attacco Grazie dell'ovvio Merda Non dove Va bene tutto Che la pompa è sotto attacco Ma non devo essere io A attaccarla Ecco fatto Dov'è l'ultimo? Aspetta Ecco fatto Oh Ho sbagliato Deploy Deploy Allora Cerchiamo di mantenere Un minimo di vita Per favore Artiglioni? Secondo me Arrivano gli artiglioni Dal terreno Ora No Altri gigantoidi Siamo grossi Siamo cattivi Arrivano solo da quel lato Mi sembra Un po' troppo comodo Wow 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 Calmi tutti Perfetto Oh Calmo Allora Ho visto un fucile Dov'è Dov'è il fucile? Porca di quella puttana Ok Ok Uno è andato Aiuto Oh ma è arrivato Quello grosso Grosso Merda Allora Aspetta Liberiamoceli Un attimo a turno Ecco Io volevo eliminare Prima questi piccoli Poi volevo eliminare Questo qua grosso Ma solo con me Te la prendi? Perché sai chi sono? Ecco Perché te la prendi con me Allora Aspetta Ci deve essere Eccoli Mancato Ma Stai via da me Allora Aspetta Morto Ok Mi serve Un fucile Scusami Non volevo Allora A parte che Come cacchio Hanno fatto ucciderlo Sono stati gli elicotteri Eh ma non ce la facciamo Probabilmente Questo è il punto Di controllo E E adesso Si distrugge E io dovrò Rifarlo da capo Cioè O meglio Da questo pezzo qua Però Dai che forse 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 Grazie agli elicotteri Uè Ciccio Via da lì Niente Ora si distrugge Devo distrarre lui E niente Sotto attacco Grazie al cazzo Eh lo sapevo Non ce l'avremmo mai fatta Subito Al primo giro Abbiamo bisogno Di un altro lanciagranate Se respawna Da che punto Abbiamo ripreso Però Non lo so No Ti prego Non dirmi Che abbiamo ricominciato Da capo Ti prego Non dirmelo Allora Aspetta Proviamoci Non penso Sia una soluzione Buona Anche perchè Abbiamo ucciso Un sacco Di soldati Per il nulla In ogni caso Nessun soldato Si è fatto Nessuna domanda Bastardo Cos'era sta carica Improvvisa Te ne devi Di andare Mi devi lasciare In pace Dai Non è possibile Che però Con una zampata Mi faccia tutto Sto danno Ogni volta Non è possibile Sto cosa Ho una resistenza Troppo alta E a meno che Non mi trasformo E vorrei evitarlo Perchè Sai com'è E' ingiusto Quanti danni Faccia sto Stronzo gigante Te devi andare Da lì Però anche I soldati Dovrebbero fare Dovrebbero fare Qualcosa di utile Ecco qua Mamma mia Tanto adesso Ne arriva un altro Sicuro Guarda un po' Sono più di prima E ovviamente Non ho Neanche Il checkpoint Vieni qua Ho bisogno di Niente Ho bisogno di un oggetto Dicevo Di nuovo Eccolo qua Ma se mi trasformo Dite che Missione fallita Tutti a casa Che Palle Maledizione Dove sono Gli elicotteri Di prima Ma ancora Ma dai Ero riuscito A sfuggirti Smettila di colpire Quel cacchio Di macchinario E beccatelo in faccia Maledetto Oh Ca miseria Non è possibile Non è possibile Che una missione Stupida Come questa Dobbiamo metterci Un'eternità Però dobbiamo fare Anche attenzione Adesso E non farci sgamare Da dove arriveranno Tanto per fortuna Abbiamo sbloccato Ecco Abbiamo sbloccato Un Un checkpoint Quindi Eh pompa Sotto attacco Tanto adesso Esplode Non lo so I soldati giganti Vi dispiace Fare qualcosa Magari Invece che Occuparti Del tentacolone Occupati Del gigantone Qua accanto No 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 Il tentacolo Il tentacolo Bravi Bravi soldati Cazzo Esperti proprio Che poi ci respawna Sempre con meno vita Ma ti pare Guarda Adesso sono apparsi Di nuovo I nemici Ma niente Soldati grossi Dove sono i mega soldati Devo riuscire In qualche modo A lanciargli le macchine Sono l'unica cosa Che posso fare Per danneggiarli Un bel po' Minchia Che male Ma non è possibile Però Dai però Ma non è Non è plausibile Ogni cacchio Di volta Eh speriamo Almeno di recuperare Un po' Di vita Dai Vabbè Almeno uno Sappiamo che è morto Mi servono Delle armi Dai Dai No Sei cretino Non mi puoi venire davanti Dai Muorici Ti prego Dimmi che è morto Oh Finalmente Ecco fatto Guarda L'importante Aia che male Dritto Dritto nella Nella dignità Proprio Oh Finalmente Lanciagranate È la cosa migliore Che poteva uscire Porca troia No 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 Ce l'avevamo Fatta Ma non Non è fattibile Questa missione Senza i soldatoni Giganti Dai Ma che palle Vieni qua E dammi quel lanciamissili Per favore Dai che muore Oh E finalmente Un andato Minchia che male Ma questo si è suicidato Da solo Però Aia che male Lo spigolo dritto In faccia Mi ha tirato Oh E l'altro gigantone È andato Aia che male Ma che basta Ancora Mamma mia E che cacchio Aia Ma guarda Non mi importa neanche Di prendere i sassi In faccia A questo punto Basta Veramente Che muoiano Tutti Ecco Fatto Aia Mi serve Qualcosa Da lanciargli Tipo Un'auto Andrebbe Benissimo Quest Aia Meglio ho lanciato La parabola Me l'ha ritirata Indietro Ok Oh ma non cala Perché non cala Di vita Bisogna di un lanciagranate Qualcuno ha un lanciagranate Da regalare Va bene Userò il fucile Forza 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 Colpiamolo Tutti assieme Prima o poi Morirà Prima o poi Dovrà morire Maledizione Ma almeno Mettete un checkpoint Ogni Ogni ondata Non è possibile Che Ti mettono I gigantoni Però poi Se muoiono Basta È finita lì Questa Questa missione È stata Tremenda È stata Veramente Tremenda Però Almeno È andata Dai Tremenda Tremenda Grazie per la visione!